Musica Ciao ragazzi, bentornati! Oggi ci occupiamo dei vettori nello spazio cartesiano. Quindi, prima cosa, facciamo comparire come al solito il nostro sistema di riferimento, usiamo quello destro come usuale e cerchiamo di capire cosa intendiamo intanto per questi vettori. Allora, l'estensione è quella naturale. In due dimensioni voi normalmente avete due direzioni, quindi due versori che voi scegliete, normalmente li chiamate XY o IEJ. Nel caso dello spazio ve ne servono tre, perché avete tre direzioni possibili. Quindi, introduciamo i tre versori, chiamiamoli I, di solito si indico con il cappuccio o anche alcuni con la freccina come vettore, ma io preferisco questa notazione. J e K, che sono rispettivamente i versori, quindi dei vettori unitari, diretti lungo l'asse X, lungo l'asse Y, lungo l'asse Z, nel verso che noi abbiamo scelto come verso positivo. Quindi, questo significa che ogni vettore del piano che voi potete scegliere, lo potete ottenere scrivendolo come una parte, quindi un coefficiente per il versore I, quindi chiamiamolo pure A volte I, più B volte J, più C volte K. Questa scrittura rende in modo univoco il vettore identificabile tramite i tre coefficienti in modo ordinato, cioè è concesso scrivere che v è uguale a A, B, C. Nel senso che, se voi andate a prendere il punto che sarebbe identificato da A, B, C nel vostro spazio e tracciate il vettore che nasce dall'origine e ha la punta che termina esattamente in quel punto, quello è il vostro vettore V. Perché le sue componenti, diciamo, lungo la X, la Y e la Z sono proprio A, B e C. Quindi questo è il modo per passare da una scrittura vettoriale a una scrittura in termini di coordinate. Se diamo per buono questo, ci sono un sacco di proprietà che sapevamo valere per i vettori nel piano cartesiano che continuano a valere. Per esempio, se voi sommate due vettori diversi, le componenti del vettore somma si ottengono semplicemente sommando le componenti. Ovvero, immaginiamo di avere W, che è invece che essere ABC, anzi magari chiamiamoli A1, B1, C1. Lui è A2, B2, C2. Allora il vettore V più W lo ottenete come sommando le componenti. Quindi A1 più A2, B1 più B2, C1 più C2. La stessa cosa vale per la differenza, quindi se io avessi messo meno avrei avuto i meno delle componenti. La stessa cosa è valida se voi moltiplicate un vettore per uno scalare, quindi per un numero. Per esempio, il vettore 2 volte V è semplicemente il vettore V con tutte le componenti moltiplicate per 2. Quindi tutte le proprietà che siete abituati ad avere continuano ad essere valide. In particolare, immaginate di avere due punti nello spazio, chiamiamoli pure P di coordinate x1, y1, z1 e Q di coordinate x2, y2, z2. E vogliamo considerare il vettore PQ, ovvero quel vettore che ha come punto d'applicazione P e termina in Q. Quindi voglio calcolarmi quel vettore. Ricordiamoci che in realtà, quando parliamo di vettori nello spazio, il punto di applicazione in sé non ci interessa. Cioè per noi quel vettore è lo stesso vettore che otterremmo traslandolo nell'origine, mantenendolo però sulla stessa retta d'azione con lo stesso verso. Quindi la domanda è chi è il vettore che effettivamente congiungerebbe quei due punti, mettiamola così. Allora, la formula che voi potete determinare, ma la sapete perché è la stessa che valeva in due dimensioni, è la seguente. Adesso faccio sparire l'immagine così uso la lavagna destra. Il vettore PQ non è altro che x2-x1 come componente x, y2-y1 come componente y, z2-z1 come componente z. Quindi queste sono le componenti del vettore che congiunge i due punti. Questa formula sarà fondamentale perché ci servirà tra poco, quando cominceremo a parlare di piani nello spazio cartesiano. Quindi adesso cancello e poi ci occupiamo della parte successiva. Prima di passare a degli esercizi, credo sia essenziale discutere due posizioni fondamentali che hanno i vettori uno rispetto all'altro, che sono la posizione di parallelismo e la posizione di perpendicolarità. Quindi, due vettori quando sono paralleli? Beh, sono paralleli quando hanno, una volta portati nell'origine, quindi come prima li trasliamo e li portiamo nell'origine, hanno la stessa retta d'azione, cioè giaccio in realtà sulla stessa retta. Alla peggio hanno verso l'opposto. Quindi, come possiamo tradurre questa cosa? Beh, se sono sulla stessa retta e l'unica differenza è che al massimo uno può essere più lungo o più corto oppure con il verso opposto significa che un vettore è multiplo dell'altro. Quindi possiamo dire che v è parallelo a v se e solo se v è uguale a k volte v per qualche fattore k. In particolare, scriviamolo magari in termini di componenti, perché anche questa cosa potrà venirci utile più avanti. Se avete che v ha componenti, chiamiamole, vx, vy, vz e w, chiaramente con grande fantasia avrà componenti wx, wwy, wz. Allora, cosa vuol dire che v è uguale a k volte v? Beh, vuol dire che io devo moltiplicare per k le componenti di w. Quindi k volte vw non è altro che k volte vx, k volte vy, k volte vz. E l'uguaglianza vettoriale, vi ricordo, vuol dire che ogni componente deve essere uguale all'altra. Quindi significa che vx deve essere uguale a k volte vwx, vy deve essere uguale a k volte vwy, e vz deve essere uguale a k volte vwz. Pertanto, in particolare, se vx, vy e vz sono diverse da 0, se fossero uguali a 0 vuol dire chiaramente che anche l'altra componente dell'altro vettore deve essere 0, questo è abbastanza intuitivo, questo si traduce dicendo che il rapporto tra le coordinate deve essere sempre costante. Cioè, vx fratto vwx deve essere uguale a k, ma anche vy fratto vwy deve essere uguale a k, e anche vz fratto vwz deve essere uguale a k. Ovvero, possiamo dire che se le componenti sono tutte quante diverse da 0, il rapporto tra le componenti dei vettori deve essere sempre costante. Questo è, diciamo, il modo per vedere se i due vettori sono paralleli. Quindi, vedere se effettivamente c'è una costante, diciamo, di proporzionalità tra le componenti dei vettori, o alla peggio, chiaramente, se si annullano in contemporanea. Adesso, vado a destra, e ci occupiamo invece della perpendicolarità. La perpendicolarità non è altrettanto semplice, diciamo, come approccio intuitivo, perché richiede un'operazione tra vettori che voi avete visto in prima, quando magari è stata fatta fisica, ovvero quella di prodotto scalare. Vi ricordo che due vettori sono perpendicolari se e solo se il loro prodotto scalare è nullo. Quindi, teniamo pure v e v doppio con queste componenti. Allora, v è perpendicolare a v doppio se e solo se il prodotto scalare, che vi ricordo si indica come un puntino, tra v e v doppio fa 0. La domanda diventa, sì, ma io come calcolo il prodotto scalare, giustamente? C'è però una formula molto semplice per calcolare il prodotto scalare tra vettori, quando avete il vostro sistema, diciamo, IJK che abbiamo visto in precedenza, che è semplicemente fare la somma dei prodotti delle componenti. Cioè, ve la scrivo, anzi, ve la scrivo in rosso, così vi ricordate che è importante. V, prodotto scalare con v, non è altro che v1 per vw1 più v2 per vw2 più v3 per vw3. Quindi questa è la formula per calcolare il prodotto scalare. Vuol dire che se voi avete due vettori e calcolate quella operazione, quindi questa somma dei prodotti delle componenti, se il risultato è 0, vuol dire che il prodotto scalare tra i due è 0 e quindi i due vettori sono perpendicolari uno all'altro. Adesso direi che per oggi, cancello qui, facciamo un paio di esercizi sulla posizione reciproca tra vettori e poi vi saluto e ci vediamo la prossima volta con l'equazione dei piani. Il primo esercizio molto semplice è questo. Avete due vettori, u e v, già dati in componenti. Vi è richiesto di determinare la posizione reciproca di questi due vettori, quindi se sono paralleli, perpendicolari o nessuno dei due. Beh, cominciamo a considerare l'eventuale parallelismo. Sappiamo che, siccome le componenti non sono 0, perché siano paralleli questi vettori, è necessario che il rapporto tra le coordinate sia costante. Ma è chiaro che x, u e x, v come rapporto vi danno 3, ad esempio, quindi x, u fratto x, v è 3 fratto 1, che fa 3, mentre già y, u fratto y, v è 4 diviso per meno 2, che fa meno 2. Quindi, siccome già questi due sono diversi, possiamo escludere che questi due vettori siano paralleli. Per quanto riguarda invece la perpendicolarità, dobbiamo calcolarci il prodotto scalare. Per cui, u scalare v sarà uguale a... Abbiamo detto che dobbiamo fare il prodotto delle componenti e poi sommare tutti i valori, quindi 3 per 1, che è 3, più 4 per meno 2, che è meno 8, più 5 per 1. Questo fa esattamente 0, e quindi possiamo dedurre che u deve per forza essere perpendicolare a v. Se giustamente non siamo del tutto convinti, facciamo comparire l'immagine con questi due vettori e l'angolo tra essi compreso, che viene confermato anche da GeoGebra, essere effettivamente un angolo retto. Quindi questi due vettori sono davvero perpendicolari. Un secondo esercizio, invece, potrebbe essere questo. Avete due vettori, questa volta, come notate, ci sono due parametri a piccolo e b piccolo. La richiesta è di vedere se esistono due parametri a e b in modo che i vettori u e v siano paralleli. Quindi, chiedendo che u sia parallelo a v, dobbiamo fare la stessa richiesta che abbiamo fatto qua a sinistra, quindi che il rapporto tra le coordinate sia costante. Notate che il fatto che la seconda componente non dipenda da nessuno dei due parametri vi dà la costante di proporzionalità. Per esempio, se noi facciamo i rapporti tra u e v, abbiamo che, per quanto riguarda la componente x, il rapporto è a-1 fratto 2. Per quanto riguarda la componente y, è 3 fratto 6, cioè un mezzo. Per quanto riguarda la componente z, è b fratto 5. Quindi, voi volete che queste componenti, come valori, vi diano lo stesso risultato, per cui a-1 fratto 2 deve essere uguale a un mezzo, che deve essere uguale a b quinti. quindi vuol dire che a-1 fratto 2 deve essere uguale a un mezzo e nel contempo anche b quinti deve essere uguale a un mezzo. E questo adesso è un sistema molto semplice da risolvere. Sopra potete togliere i due del denominatore e quindi ottenete che a è uguale a 2, mentre per quanto riguarda b, moltiplicando semplicemente per 5 ambo i membri, ottenete che b deve essere 5 mezzi. Quindi, vi invito eventualmente, se volete a fare la prova con GeoGebra, se voi mettete a e b con quei valori e provate a far tracciare il grafico, quindi con il vostro software, dovete ottenere due vettori che saranno in realtà paralleli. Quindi li vedrete sulla stessa retta d'azione. Quella di oggi è stata un'introduzione ai vettori, quindi con questo e il video precedente in cui sono state introdotte le prime formule che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora visto, possiamo darci appuntamento al prossimo video in cui iniziamo a tracciare, per esempio, alcuni piani nello spazio. Perché se vi ricordate, quando avete fatto geometria analitica in 2D, la prima cosa che avete tracciato sono state le rette e l'analogo qui sono i piani. Quindi è da lì che inizierà il nostro percorso nella geometria analitica nello spazio. Per adesso, da Davide, Riccardo e Mazzegnale è tutto. Ciao ragazzi!